La prima giornata del gruppo A di Artea Liga, di Menex, si impone 3-1 su Universal, qui con me, migliori in campo, credo non zapparà. E dai, ti vedo sempre Arzigo dietro, anche davanti ci provi sempre con le tue totte, oggi infatti hai segnato, l'1-1. Hai giocato davvero molto bene, hai anche fatto l'assist su quel bellissimo schema e poi ha portato lo vetere in gol. Comunque, oggi avete giocato, diciamo, sotto tono, è stata una partita, se me lo concede, un po' bruttina, perché è più fisica, più che tecnico-tattica. Insomma, siete sempre la favorita del girone, però magari su cosa potete migliorare? Durante la settimana ci alleniamo totalmente, proviamo sempre questi schemi, queste azioni, però magari a volte in partita non riesce quello che provi durante la settimana. Il mister era un po' arrabbiato con noi appunto per questo motivo, però alla fine è importante aver preso i tre punti, così iniziamo bene questo girone di Champions, è sempre importante. L'ultima volta ti lamentavi, seduto sulla sede, eravate in set, la gente ti lasciava in tredici, ti lasciava in tredici, oggi eravate in nove. Oggi abbiamo rischiato di essere in tredici, che è diverso, ed è meglio come cosa. Eravamo in nove, quindi eravamo i cambi e riusciamo anche a riposarci fuori. Infatti abbiamo messo delle sedie a sdraio, appunto per chi si doveva accumulare fuori, si riposava con massaggiatrice e quant'altro. Oggi grazie a te diciamo che Catania è stato poco impegnato, ovviamente comunque un pro so fa a tutti quanti, perché siete un'ottima squadra che gioca, diciamo, di gruppo. Però, ripeto, che dalla prossima gara forse potreste far meglio. Sì, ci manca qualcosa, infatti vediamo se in questo mercato riesciamo a trovare un portiere migliore, perché non si può guardare, non si può reggere. Va bene, io te lo auguro di trovare un portiere migliore, scherziamo ovviamente. Gretano, in bocca al lupo e alla prossima e complimenti sempre. Ciao. Grazie.